Dopo due settimane di carcere a Lanciano, Domenico Mattucci confessa e va ai domiciliari. L'istanza di scarcerazione presentata dal legale Emilia è stata accolta ieri sera dalla GIP Colantonio. Mattucci, ex presidente della cooperativa La Rondine di Lanciano, era l'unico ancora in carcere tra gli indagati nella maxinchiesta sui servizi extraospedalieri della ASL di Pescara. Secondo quanto già riferito dalla coordinatrice della cooperativa, Luigia Dolce, Mattucci avrebbe consegnato 50.000 euro al dirigente del Dipartimento di Salute Mentale ed ex candidato con Fratelli d'Italia, Sabatino Trotta, il quale si è ucciso in carcere a Vasto il giorno stesso del suo arresto. L'indagine verte sulla gara d'appalto da 11 milioni di euro per la gestione di residenze per disabili psichiatrici. L'altro ieri Mattucci è stato interrogato per circa tre ore dai PM Benigni e Sciarretta, ai quali avrebbe confidato scottanti rivelazioni. Altri soldi infatti sarebbero stati consegnati dall'ex presidente della cooperativa al direttore del Dipartimento, soldi che sarebbero dovuti giungere espressamente al direttore generale della ASL, Vincenzo Ciamponi. Resta da capire se questa versione dei fatti possa essere confermata dal Trojan che gli investigatori avevano posto nello smartphone di Trotta. Intanto è prontamente giunta la smentita di Ciamponi. Smentisco categoricamente, nella maniera più assoluta, ha dichiarato il direttore generale, di aver mai ricevuto denaro né qualsiasi promessa in tal senso da Trotta. La giudicazione dell'appalto, ha poi concluso Ciamponi, è avvenuta nella più totale sconoscenza dei fatti di corruttela che risultano emergere dalle indagini in corso. La confessione fa tremare anche la politica, in Abruzzo quanto a Roma. Mattucci infatti avrebbe ammesso che parte dei soldi erano destinati agli appalti, altri sarebbero dovuti essere portati da Trotta nei palazzi romani. Sotto la lente di ingrandimento anche Terenzio Rucci, a cui è probabile che le orecchie siano fischiate spesso durante l'interrogatorio dell'ex presidente della cooperativa. Quel che in queste ore si cerca di capire in procura è se Rucci, braccio destro di Marsilio che aveva accompagnato il governatore nel giorno del suo colloquio con i PM, possa essere il tramite per affari illeciti tra la politica locale e i vertici nazionali del partito. Ulteriori elementi sono ora attesi dalla perizia informatica su smartphone, pc e tablet di Trotta, per la quale il perito ha 60 giorni di tempo a partire da oggi.